Dall'Italia alla Russia, dalla Gran Bretagna alla Turchia, una delegazione di giovani dell'associazione AEGE, nata a Parigi nel 1985 per promuovere l'integrazione tra gli studenti europei, ha incontrato in sala giunta il sindaco Luigi De Magistris. Fondata dagli stessi ideatori del progetto Erasmus, l'associazione conta più di 15.000 iscritti in oltre 250 città d'Europa. L'obiettivo è creare una rete internazionale tra i giovani per favorire lo scambio di culture e tradizioni diverse. Il duplice obiettivo è quello di avvicinare i giovani europei alla nostra città, alla nostra realtà, alla nostra cultura, storia, alla nostra bellezza artistica e poi anche permettere ai giovani napoletani di visitare il resto del continente europeo per vivere in maniera concreta quello che è il concetto di Europa che molto spesso viene vissuto solo in maniera astratta o comunque sulla carta.